Penso della famosa pizzeria Anima e Core di Termoli qui in piazza, oggi riapertura anche per voi dopo tanto tempo con i tavoli Sì, finalmente, speriamo che duri, niente, abbiamo stato tutto questo periodo di pandemia È stata dura? Sì, assai, assai veramente, tu dico proprio il napoletano, assai Bar Malisi, anche per voi oggi il grande giorno della riapertura al tavolo, ci sono insomma clienti Sì, 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 molta gente è venuta questa mattina, infatti non ce l'aspettavamo di ripartire così alla grande Abbiamo lavorato molto con le aperitivi e con le colazioni, speriamo di continuare a lavorare tutti i giorni così Sempre con il buon senso civico della gente, distanziamento E speriamo che non... Molto spetta ai cittadini, lei sta dicendo Sì, il senso civico è loro, perché noi diciamo di tutto e di più come devono comportarsi Poi se non vogliono ascoltarci, devono venire le forze dell'ordine a farli capire come devono comportarsi Queste nuove aperture qua diciamo qua all'esterno E speriamo, adesso stiamo ancora in fase di... stiamo ancora preparando Però già vedere... Quanti posti all'aperto? Vabbè io sono uno dei fortunati, devo dire, perché ho abbastanza spazio Però non è che vado a occupare tutto lo spazio Adesso vediamo un po' come è l'andamento, come sono le persone che vengono E in base alle persone ci muoviamo Adesso lasciamo solo questo spazio qua E niente, sperando un'apertura totale Anche per gli altri ristoratori che purtroppo non hanno lo spazio fuori E hanno... stanno ancora più problemi di noi Sicuramente Spera in un'estate quindi positiva anche per quello... Quanto riguarda le presenze turistiche Come l'anno scorso almeno Comprava, io me lo auguro perlomeno come l'anno scorso Che orari fate? Niente, noi apriamo alle 7 la mattina E facciamo l'orario continuato fino alle 22 per il momento Che... così ha deciso il governo Eh, poi speriamo che... Come lo giudirai questo coprifuoco alle 22? È un po' troppo presto? Ma... no, non è... All'inizio è meglio all'allentare piano piano Penso che sicuramente per giugno-luglio non sarà alle 22, almeno spero Sennò... è un disastro Che succede insomma Sì, sicuramente lo allungheranno, sì Va bene, grazie Grazie a voi Buon lavoro, buone Speriamo pure sta foto Qua a te mi devi fare il vacante Qua mi devi mangiare